Storie per bambini di Peter Bixell. Legge Tommaso Tellung. L'America non esiste. Io so la storia di un uomo che racconta le storie. Gli ho detto molte volte che non credo alle sue storie. Lei mente, gli ho detto. Lei imbroglia. Lei inventa. Lei inganna. Questo non lo impressionò. Egli continuò tranquillamente a raccontare. E quando io gridai, lei mentitore. Lei imbroglione. Lei inventore. Lei ingannatore. Mi guardò a lungo. Scosse la testa. Sorrise tristemente e poi disse così piano che io quasi mi vergognai. L'America non esiste. Io, per consolarlo, gli promisi di scrivere la sua storia. La storia comincia cinquecento anni fa alla corte di un re, del re di Spagna. Un palazzo, seta e veluto, oro, argento, barbe, corone, candele, servitori e cameriere. Cortigiani che all'alba si lanciano l'uno contro l'altro per bucarsi la pancia con la spada, che la sera prima si erano gettati l'uno ai piedi dell'altro il guanto di sfida. Sulla torre, sentinelle che suonano la tromba. E ambasciatori che scendono da cavallo con un balzo. E ambasciatori che saltano in sella, amici del re e falsi amici, donne belle e pericolose e vino. E attorno al palazzo, gente che non sapeva fare altro che pagare tutto questo. Ma anche il re non sapeva fare altro che vivere così. E comunque uno viva, ricco sfondato o povero, in fin dei conti un giorno dopo l'altro è lo stesso. E uno si annoia. Così la gente che abita da qualche parte si immagina che Barcellona sia bella, e la gente di Barcellona vorrebbe andare da qualche parte. I poveri si immaginano che sia bello il modo in cui il re vive, e soffrono del fatto che il re pensi che essere i poveri sia la cosa giusta per i poveri. Di mattina il re si alza, di sera il re va a letto, e tutto il giorno si annoia con le sue preoccupazioni, con i suoi servitori, il suo oro, argento, velluto, la sua seta, si annoia con le sue candele. Il suo letto è sfarzoso, ma anche lì non ci si può fare molto altro che dormire. I servitori fanno ogni mattina dei profondi inchini, ogni mattina ugualmente profondi. Il re ci è abituato e non li guarda neanche. Qualcuno gli dà la forchetta, qualcuno gli dà il coltello, qualcuno gli porge la sedia, e la gente che parla con lui dice maestà e molte belle frasi e nient'altro. Nessuno gli dice mai ehi, ehi, stupido, ehi, testa di legno! E tutto ciò che gli dicono oggi glielo hanno già detto ieri. Così stanno le cose. E per questo i re hanno buffoni di corte. Questi possono fare tutto ciò che vogliono e dire tutto ciò che vogliono per far ridere il re, e quando egli non riesce più a ridere di loro, li fa uccidere o qualcosa di simile. Dunque il re aveva un buffone che invertiva le parole. Lo trovava divertente. Egli diceva sta es ma invece di maestà. Diceva zolappa invece di palazzo. E nuovo brongio invece di buongiorno. Io lo trovo stupido. Il re lo trovava divertente. Lo trovò divertente per un intero semestre, fino al 7 luglio. E l'otto, quando si alzò e il buffone venne e disse nuob rongio sta es ma. Il re disse tagliate la testa al buffone. Un altro buffone, uno piccolo e grasso che si chiamava Pepe, piacque al re soltanto per quattro giorni, perché faceva ridere il re spalmando sulla sedia di dame e signori, di principi, duchi, baroni e cavalieri, del miele. Il quarto giorno egli spalmò il miele sulla sedia del re. E il re non poté più ridere. E Pepe non fu più un buffone. Poi il re si comprò il buffone più spaventoso del mondo. Era bruttissimo. Contemporaneamente magro e grasso. Contemporaneamente alto e basso. E la sua gamba sinistra aveva la forma di una O. Nessuno sapeva se egli fosse capace di parlare e lo facesse apposta a non parlare. O se fosse muto. Il suo sguardo era cattivo. La sua faccia burbera. L'unica cosa simpatica in lui era il nome. Si chiamava Giovannino. La cosa più orribile, però, era la sua risata. Cominciava molto sottile e cristallina dal profondo della pancia. Saliva verso l'alto. Si trasformava lentamente in un rotto. Faceva diventare tutta rossa la testa di Giovannino. Lo faceva quasi soffocare finché scoppiava, esplodeva, rimbombava e squillava. Ed egli per giunta scalpitava e ballava e rideva. E solo il re si divertiva. Gli altri diventavano pallidi, cominciavano a tremare e avevano paura. E quando la gente attorno al castello udiva quella risata, sprangava porte e finestre, chiudeva le persiane, metteva i bambini a letto e si tapava le orecchie con la cera. La risata di Giovannino era la cosa più spaventosa che esistesse. Il re poteva dire quello che voleva. Giovannino rideva. Il re diceva delle cose su cui nessuno può ridere, ma Giovannino rideva. E un giorno il re disse, Giovannino ti faccio impiccare. E Giovannino rise, ruggì da ridere, rise come non mai. Allora il re decise che Giovannino il giorno dopo doveva essere impiccato. Fece costruire una forca e la sua decisione era seria, voleva sentir ridere Giovannino davanti alla forca. Poi ordinò a tutti di stare a guardare questo malvagio spettacolo. La gente però si nascose e chiuse le porte col catenaccio e la mattina dopo il re si trovò solo col boia, con i servitori e con Giovannino che rideva. Ed egli gridò ai suoi servitori, portatemi qui la gente. I servitori cercarono per tutta la città e non trovarono nessuno e il re era furioso e Giovannino rideva. Alla fine i servitori trovarono un ragazzo e lo trascinarono davanti al re. Il ragazzo era piccolo, pallido e timido. Il re indicò la forca e gli ordinò di stare a guardare. Il ragazzo guardò la forca, sorrise, batte le mani, si stupì e poi disse lei deve essere un buon re a costruire un panchetto per le colombe. Vede, già due ci si sono sedute sopra. Tu sei uno stupido, disse il re. Ma come ti chiami? Io sono uno stupido signor re e mi chiamo Colombo, ma la mia mamma mi chiama Colombin. Ehi stupido, disse il re. Qui c'è uno che viene impiccato. Ma come si chiama? domandò Colombin e quando udì il nome disse. Un bel nome? Dunque si chiama Giovannino. Ma come si fa a impiccare un uomo che ha un nome così bello? Ride in modo così orribile, disse il re. Ed ordinò a Giovannino di ridere. E Giovannino rise in modo due volte più orribile di ieri. Colombin si stupì e poi disse. Signor re, ma lei lo trova orribile. Il re era così stupefatto che non riusciva a rispondere e Colombin continuò. A me la sua risata non piace particolarmente, ma le colombe sono rimaste sempre lì sedute sulla forca. Non le ha spaventate. Non trovano la risata così orribile. Le colombe hanno l'orecchio fine. Bisogna lasciar libero Giovannino. Il re ci pensò su e poi disse. Giovannino, vai al diavolo. E Giovannino disse per la prima volta una parola. Disse a Colombin. Grazie. E fece un bel sorriso umano. E se ne andò. Il re non aveva più un buffone. Vieni con me, disse a Colombin. I servitori del re e le cameriere, i conti e tutti quanti credettero però che Colombin fosse il suo nuovo buffone di corte. Ma Colombin non era affatto divertente. Se ne stava lì impalato e stupefatto. Diceva di rado una parola e non rideva. Sorrideva soltanto e non faceva ridere nessuno. Ma non è un buffone, è uno stupido, diceva la gente. E Colombin diceva. Non sono un buffone, sono uno stupido. E la gente lo prendeva in giro. Se il re l'avesse saputo si sarebbe arrabbiato. Ma Colombin non gli diceva niente. Perché non gli importava di essere preso in giro. A corte c'erano uomini forti e gente in gamba. Il re era un re. Le donne erano belle e gli uomini coraggiosi. Il prete era devoto e la cuoca diligente. Solo Colombin. Colombin non era niente. Quando qualcuno disse. Forza Colombin, combatti contro di me. Colombin disse. Io sono più debole di te. Quando qualcuno disse. Quanto fa due per sette? Colombin disse. Io sono più stupido di te. Quando qualcuno disse. Hai il coraggio di saltare al di là del ruscello? Colombin rispose. No, non ne ho il coraggio. E quando il re domandò. Colombin, che cosa vuoi diventare? Colombin rispose. Io non voglio diventare niente. Sono già qualcosa. Sono Colombin. Il re disse. Ma tu devi diventare qualcosa. E Colombin domandò. Che cosa si può diventare? Allora il re disse. Quell'uomo con la barba, con il volto abbronzato e indurito. È un navigatore. Voleva diventare navigatore ed è diventato navigatore. Fa vela sui mari e scopre delle terre per il suo re. Se tu vuoi, mio re, disse Colombin, io diventerò navigatore. Allora tutta la corte non riuscì a trattenersi da ridere. E Colombin corse via, fuori dal salone, e gridò. Io scoprirò una terra. Io scoprirò una terra. Tutti si guardarono in faccia e scossero la testa. E Colombin corse fuori dal castello, attraverso la città e nei campi. E ai contadini che lo guardavano gridò. Io scoprirò una terra. Io scoprirò una terra. E giunse nel bosco. E si nascose per delle settimane sotto cespugli. E per delle settimane nessuno sentì più niente di Colombin. E il re era triste. E si rimproverava. E i cortigiani si vergognavano di aver preso in giro Colombin. E furono contenti quando, dopo settimane, la sentinella sulla torre suonò la tromba. E Colombin giunse dai campi. Attraversò la città. Attraversò il portone. Arrivò in presenza del re e disse. Mio re, Colombin ha scoperto una terra. E poiché i cortigiani non volevano più prendere in giro Colombin. Fecero la faccia seria. E domandarono. Ma come si chiama? E dove? Non si chiama ancora, perché l'ho appena scoperta. Ed è lontana in mezzo al mare, disse Colombin. Allora il navigatore barbuto si alzò e disse. Bene, Colombin. Io, Amerigo Vespucci, vado a cercare quella terra. Dimmi dov'è. Lei salpa verso il mare e poi sempre dritto. E deve continuare a viaggiare finché non arriva alla terra. E non deve disperare, disse Colombin. E aveva una paura terribile, perché era un bugiardo. E sapeva che quella terra non esiste. E non riusciva più a dormire. Amerigo Vespucci però si mise alla ricerca. Nessuno sa verso dove egli abbia viaggiato. Forse anche lui si è nascosto nel bosco. Poi le trombe suonarono. E Amerigo tornò indietro. Colombin diventò tutto rosso in viso. E non aveva il coraggio di guardare in faccia il navigatore. Vespucci si fermò davanti al re. Strizzò l'occhio a Colombin. Respirò profondamente. Strizzò ancora una volta l'occhio a Colombin. E disse chiaro e forte, così che tutti potessero sentirlo. «Mio re!» Così egli disse. «Mio re! La terra esiste!» Colombin era così felice che Vespucci non lo avesse tradito, che gli corse incontro. Lo abbracciò e gridò. «Amerigo! Mio caro Amerigo!» E la gente pensò che questo fosse il nome della terra. E chiamarono la terra che non esiste «America». «Ora sei un uomo!» disse il re a Colombin. «Ed ora in poi ti chiami Colombo!» E Colombo divenne famoso. E tutti lo ammiravano e sussurravano. «Quello lì ha scoperto l'America!» E tutti credettero che l'America esistesse. Solo Colombo non ne era sicuro. per tutta la vita ne dubitò. E non ebbe mai il coraggio di chiedere al navigatore la verità. Presto però altra gente andò in America, e presto furono in molti. E quelli che tornavano indietro sostenevano «L'America esiste!» «Io», disse l'uomo da cui ho ascoltato la storia, «io non sono mai stato in America. Non so se l'America esista. Forse la gente fa solo finta per non deludere Colombin. E quando due si raccontano dell'America, ancora oggi si strizzano l'occhio, e non dicono quasi mai America, ma per lo più qualcosa di poco chiaro con stati o laggiù o roba simile. Forse a quelli che vogliono andare in America si racconta, sull'aereo o sulla nave, la storia di Colombin. E allora essi si nascondono da qualche parte, e poi tornano indietro e raccontano dei cowboys e dei grattacieli, delle cascate del Niagara e del Mississippi, di New York e di San Francisco. Ad ogni modo raccontano tutti le stesse cose, e tutti raccontano cose che sapevano già prima del viaggio. E questo è molto sospetto. Però la gente litiga ancora su chi fosse veramente Colombo. Ehi, io lo so.